I've been reading the stars Musica 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 Bella a tutti ragazzi Ben ritornati sul mio canale Siamo ad un altro episodio No scherziamo non siamo con l'erroato cipolla Ma siamo in live per Giocare una partita Con il brecci Tanto capiamo A Perché ragazzi dovete sapere che il brecci ci sto giocando davvero molto Questi giorni perché voglio farlo oro E vorrei No no ok Vorrei farlo oro quindi però è difficile Perché devo fare Di colpa alla testa e a me veramente Di colpa alla testa con un fucile a pompa Sarebbe un po' difficile farli Perché qua è morto uno Intanto Non è che è veramente Guardate come lo prendo a questo Salto qua sopra Da che lo sento che è qua Eccolo va bene La mira che mi sfasa come un caimano impazzito Comunque Stavo dicendo che il Pompa Secondo me più forte È questo ragazzi Il pompa veramente fortissimo Cioè due colpi e shot Ok Tanto questa voleva morire proprio di sanguata Qua ce n'è una L'altra ce n'è una Ma se c'è una a prenderla Mamma che tripla Mamma Che tripla Ancora qua Non me l'ha contata come Quattro fit No vabbè Cazzo Mi ha preso all'ultimo Con l'AKN Su C Se non mi sbaglio Ce l'abbiamo dietro O sbaglio Se infatti lo sente Quello fa Dove Headshot addirittura Ecco come vedete Gli headshot sono difficili da fare Quindi ci ho fatto Echì Mi sono Spaventato Mi sembrava che era un nemico Comunque I compiti da testa sono davvero difficili Stanno facendo difficili Va bene Caccio un altro innanzitutto Guarda Uuuu Doppia Eccola qua La doppia con Ritorno di fuoco Se non mi sbaglio Si chiama Che quello sto usando Sto usando Scusate Ok Mamma mia Ancora Va bene Comunque ragazzi Secondo me Il breccio Come ho detto Il fucile più forte da usare Io Non riesco a finire Un congetto Che me ne spunta uno davanti Porca miseria Ok abbiamo Lestorm E Guardate Pare che so Veramente da dove Spuntino Qua ce n'è uno Vediamo se riusciamo a prenderlo Ehi 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 bello Ehi Non mi prendi Giochiamo al nascondino Guarda 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 No L'avevo ammazzato Va bene così ragazzi Usiamo il nostro estorm Mamma mia Tripla Tripla Un tripla No Doppia Va bene così Vediamo pure il nostro Vediamo se Riusciamo a fare qualche Uccisione con l'attacco aereo Mamma mia Doppia Ottimo così Ce l'ho di dietro Affanculo L'ho vista all'ultimo Va bene ragazzi Va bene così ragazzi Stiamo giocando bene Stiamo facendo uno scorro ottimo Voi non so se lo vedrete in live Questo gameplay Penso verrà preso dal cinema Non mi so dire In base a con Avrei ci stato affettato Vaffanculo L'avevo cercato all'imbucata Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta a fare l'imbucata Va bene Va bene così Qua c'è su B Su C Allora Qua c'è qualcuno Eccolo qua infatti Qua c'è un altro Non ce l'ho fatta Porca miseria Porca miseria Però non penso Stia facendo male Ok Qualcuno C'è la colla L'assopra Vediamo se Riusciamo a prendere un po' Da dietro Ce l'abbiamo dietro Se non sbaglio O sbaglio O sono sbaglio O lo vado all'ammazzo Eccolo qua Va vaffanculo Guardate come camperano Come camperano Abbiamo il nostro ritorno di fiamma Che è utilissimo Oh L'ho ucciso con Il ritorno di fiamma Addirittura ragazzi Mamma mia Pure il ritorno di fiamma È una cosa Una ponte imposi Secondo me Insieme a un fucile a pompa Come il brecci Allora Qua c'era dentro C'era qualcuno Qua sopra No Forse qua no Sotto No Ok Sono un po' sparpagliati I nemici Quindi non si capisce Dove siano Guardate Guarda Sei morto solo A me lo ti tocca Mi devi la kill Chezzo Va bene Va bene così Ce l'abbiamo Ce ne sono un bel po' Di là Infatti qua ce n'è uno Allora Uh Da dove prende Posto brecci Ragazzi Vediamoci Ci vogliono 200 punti A meno Come ricompense Sto usando Il contrattacco L'attacca aereo E il missile esterno Guardate dove è quello È troppo lontano Come lo prendo Aspettiamo Aspettiamo Me ne vado Me ne vado Me ne vado perché Non venga Uh Come l'ho visto questo L'ho visto solo la maniglia La maniglia dell'amore L'ho ucciso Ce n'è uno qua dentro Ecco infatti Perché questi sono quelli I soliti camperoni Che vogliono camperare E io lì Gli scampero Porca miseria Sto giocando pure Con l'audio Nel controller Perché C'è un problema Con le cuffie C'è uno Shite La Non male che l'hanno ucciso Ui Bababia Mamma mia Quanti ce n'erano La mandria Che ha Dai All'era Mamma mia Allora Guardate quanti assist Con il Contraattacco Perché Le mie squadre Se non mi sbaglio Deve essere un pochino Forte Guardate Uh Due colpi ragazzi Questo è troppo lontano Lascia me ne vado Però sta prendendo Di dietro Vediamo se Prendelo Uh Headshot addirittura Mamma mia Pure kill Finale mia Mamma mia Ragazzi Guardate qua Boom Un colpo alla testa Secco Secco ragazzi Mamma mia Quanto è forte Questo fucile a pompa Secondo me è uno dei migliori Come sto dicendo prima Non so che sono troppo ripetitivo Ma non lo smetterò mai di dire Perché è un fucile a pompa Fortissimo Poi con questa Come si può dire Non mi ricordo come si chiama Come si può dire Una texture Questa Mimetica Ecco Mi viene il mail Il termine Eppure Bellissimo Perché è una Mimetica inferno Che mi è uscita dai pacchetti Epica Non c'è uno qua Dove è? Saltiamo Quando si è? Eh Un colpo Gli ho dato ragazzi Contato Un colpo Sono subito Se non mi sbaglio un poco Mamma mia Meno male Ci pensa il Questa abilità Che sto usando La seconda abilità La seconda abilità Del fire Ma sbaglio Ce n'è uno Là sopra Che sta camperando No 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 È molto questo Mi sembrava veramente Che era uno Che sta camperando No 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 Piano piano Vediamo se riusciamo A prenderlo No me l'hanno fregato Ce n'è uno là Guardate com'è Eh lo sapevo Mi venivi Zoccoletta mia Quanto attacco Va bene così Ok Va bene così Stiamo devastando Ragazzi Stiamo devastando Vediamo Questa dovevi prendere Tutte e due Infatti Facciamo prima Il nostro Hellstorm Mamma mia Che cosa fa Quanto fa Oh doppia Va bene Va bene così Facciamo questa attacca aereo Invece Vediamo se riusciamo Faremo qualche uccisione Con l'attacca aereo Ragazzi Innanzitutto Vi ricordo che questo È il primo La prima partita del giorno Che sto facendo Quindi non so Se verrà Non so se verrà Registrata in live O presa Dal Dal cinema Ah qua ce n'è uno Che è morto quello Dove sta? Ah ne ho visto uno qua Guardate il cane Che ma Porca puttana Il cane mi ha Scocciato Qua ce n'è uno Porca miseria Ok C'è un altro là dentro Che è entrato Ha fatto il giro All'altra parte Non mi sbaglio E così è da qua Vediamo se Ok non mi ha visto Va bene Andiamo subito a difendere B Vediamo se riusciamo a prendere quella Vediamo Ok è morta col Talon Va bene così ragazzi Mi sembra una telecronica Di una partita Ma è troppo Uuu Guardate ce ne sono qua Aspettiamoli qua Dai da qua Devono venire Per forza Ok qua ce n'è uno No Non riesco a prenderlo Ok non mi ha visto Stava ricaricando Ancora No Già avevo detto Da prima Perché Non l'avevo preso Con l'abilità Cioè mi ha fatto Lit marker Ma non ho preso lui Ho preso Qualcun altro Se no non mi poteva mai Uccidere in quel modo Tanto però Noi pigliamo Ragazzi 159 a 100 Ottimo Veramente questo score Come partita Va bene così Va bene così Ok C'è qualcuno qua Eccolo qua Porca miseria Dobbiamo pure Divendere le bandiere Nemiche E va bene Mi sa che è il mio Lavoro questo Porca miseria 200 punti Mamma mia Quanto danno queste bandiere Mi salvo No No Ma Cosa volevi fare Pezzo di cacca Quanto attacco A V ragazzi Questa volta A V Non sapete quanto Possa servire Soprattutto per chi non usa Quella Il secondo perk De verde Qua ce n'è uno Ok L'hanno fratto freddo Qua ce n'è uno Colpì 06 Addirittura Colpì 06 Non stiamo scherzando Mamma mia Ancora No vabbè Gli sono messo Proprio davanti Mentre stava spaziano Con lo shite Va bene Proprio così Adesso abbiamo L'Hellstorm Ma possiamo usare L'attacco aereo Vediamo Qua ce n'è Eccolo qua Questo stavo aspettando Ma ha ucciso Col Col fucile a pompa Mamma mia Mi ha risviato Eri torto contro Con la mia stessa classe Anche se non è il brecci Mamma mia Oh Tripla Tri No Mi sembrava invece I cloni Sono stato trollato Va bene Oh doppia Doppia Va bene così Va bene la doppia Va bene la doppia Qua c'è qualcuno Non mi sbaglio No Sì Là dentro Vediamo E mori pezzo di merda Con me Non foti No Va bene così Vinciamo Vinciamo così ragazzi Mamma mia ragazzi Quanto abbiamo fatto ragazzi Abbiamo fatto 42 12 Col brecci Ragazzi come sempre Vi invito a lasciare un video Secondo i video Trovate tutti i link Dei sociali In descrizione Restatevi su canale Per attività Su black ops La sua giusta è tutto Bella ragazzi Grazie a tutti